Il vino fa bene, il vino fa male, bisogna bere tanto, bisogna bere poco, non ci si capisce più niente. Facciamo chiarezza. Il vino è un alimento sano? Certo, è un alimento naturale. Dato dalla fermentazione del mosso dell'uva, è composto di acqua, zuccheri, enzimi, tracce di proteine e alcol. Contiene minerali come calcio, sodio, fosforo, potassio, zinco, cloro, rame, ferro, selenio e manganese. Contiene anche vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B4, B6, vitamina K, oltre a beta-carotene, luteina e zeaxantina. Ma soprattutto contiene un'importante varietà di antiossidanti utili alla salute, in particolare il vino rosso. A questo punto su vino e salute è stato detto di tutto e di più, ma ci sono alcune false credenze che è meglio conoscere. Così anche voi sarete dei veri esperti e potrete essere precisi in materia di vino. Vi consiglio di guardare questo mio video dove spiego i benefici del vino e come usarlo a casa per ottenere degli incredibili benefici curativi. Ecco sei falsi miti sul vino da sfatare. Non è vero che il vino favorisce la digestione perché anzi produce ipersecrezione gastrica, quindi bisogna sempre bere a stomaco pieno e mai a digiuno. Non è vero che fa buon sangue, il suo eccesso può provocare anemia e accumulo di grassi nel sangue. Non è vero che disseta perché al contrario l'alcol disidrata richiede acqua per essere metabolizzato e blocca l'ormone antidiuretico, quindi produce diuresi. Non è vero che riscalda. Procura una momentanea vasodilatazione con una sensazione di calore, ma quando passa provoca raffreddamento del corpo. Non è vero che aiuta a riprendersi da uno shock, al contrario riduce l'afflusso di sangue agli organi interni e soprattutto al cervello. Non è vero che dà forza, siccome ha un effetto sedativo porta solo una diminuzione della sensazione di fatica e di dolore. Non ve lo aspettavate vero? Ma bere consapevolmente è meglio. Per sapere come fare e come trasformare il vino in un miglioratore della salute, guardate questo mio video con 4 ricette speciali a base di vino. E scrivetemi le vostre domande, i vostri dubbi e la vostra esperienza nei commenti qui sotto. E se volete approfondire andate nel mio sito visitando il link che trovate nell'info box e potrete leggere anche le ricette di vino medicato. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale naturalmente. Ciao!